Finisce 0 a 0 tra Badolato e San Gregorio di Pona al comunale Giuseppe La Rocca di Badolato. Una gara molto intensa e combattuta fra le squadre che hanno cercato di superarsi. Il primo tempo in cui il Badolato è partito forte, già subito al primo minuto azione importante con Tedesco che è andato al tiro dal limite dell'aria con il portiere pronto all'aria spinta in calcio d'angolo. Il Badolato che in questo primo tempo, soprattutto nei primi 20 minuti, ci prova di più è da sottolineare il palo di Domenico Caporale. Esce fuori poi il San Gregorio di Pona e su due azioni sulla sinistra di Simonetti che mette palla in area di rigore per ben due volte gli attaccanti del San Gregorio non riescono a ribadire verso la rete. Poi è bada avere una buona equazione con la palla che termina alta sopra la traversa, finisce il primo tempo sulla 0 a 0 così come poi dicevamo terminerà la gara. Nel secondo tempo il San Gregorio di Pona ci prova di più, si rende pericoloso, Badolato pericoloso su due calci di punizione di Girillo. Palla che termina di poco a lato e alla fine termina con uno 0 a 0 sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo. Pona e alla fine termina con uno 0 a 0 sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo.